Musica Ci troviamo a Fossombrone, zona San Martino, siamo in provincia di Pesaro Urbino con noi c'è l'amministratrice di Altra Moda Elena Mancinelli Voi lavorate molto online Sì, è un'idea che abbiamo elaborato dall'inizio degli anni 2000 insomma di portare al più ampio pubblico possibile dell'abbigliamento in tessuti naturali che sono il cotone biologico, la canapa, il bambù, la lana biologica e altri Come si è evoluta l'azienda in questi ultimi anni? Era un'azienda familiare con un piccolo negozio sul corso di Fossombrone di 70 metri quadri adesso invece siamo finalmente nella nostra nuova sede dove possiamo fare tranquillamente sia l'attività di commercio elettronico perché abbiamo un grande magazzino sia l'attività di vendita al pubblico perché comunque restiamo aperti ed è possibile venire ad acquistare qua La cosa che ci rende più specifici e più forti sul mercato è il vasto assortimento di abbigliamento intimo e calze biologiche oltre a un pubblico che è interessato al biologico che già mangia biologico, usa detergenti naturali, cosmesi naturale e quindi vuole completare quello che compra anche con l'abbigliamento c'è anche proprio tra i nostri clienti ci sono persone che hanno una pelle molto sensibile alcune sono addirittura allergiche, hanno la dermatite e sono affette da MCS e quindi hanno assolutamente bisogno di tessuti naturali che non contengano elastane e anche le tinture devono essere comunque certificate infatti le certificazioni biologiche per esempio quella internazionalmente più conosciuta che è il GOTS assicura anche che le tinture siano compatibili sia per l'ambiente e siano comunque delicate sulla pelle e poi per chi comunque non vuole prodotti tinti abbiamo un'ampia linea di prodotti in colore bianco naturale che è soprattutto apprezzato per l'intimo e per le calze e per i prodotti a diretto contatto con la pelle mentre invece per l'abbigliamento esterno abbiamo anche cose naturalmente più colorate per soddisfare diverse esigenze questo è un tessuto di canapa è una maxi maglia è un pochino elasticizzata appunto perché diciamo che ci proponiamo di avere un abbigliamento basico adatto a tutte le stagioni che possa soddisfare le esigenze di vario tipo insomma da modelli più giovanili a modelli per persone più grandi un'altra cosa che vendiamo molto per l'inverno è la lana biologica che appunto è stata ottenuta da pecore allevate in maniera rispettosa allevate biologicamente e questi sono tessuti per esempio misti in lana e seta che si possono a seconda dei modelli usare sia a contatto con la pelle che per l'abbigliamento esterno altre cose molto utilizzate è il bambù questa è una fibra di bambù che è una viscosa naturale questo articolo è fatto in Italia è molto aderente ed è un ottimo sostitutivo alla microfibra sintetica perché rimane molto traspirante non emana cattivi odori insomma ed è più delicato con la pelle altri prodotti vediamo questo è cotone biologico eco solidale certificato fair trade fatto in India e abbiamo anche tutta una serie di abbigliamento soprattutto estivo con stampe molto colorato che può essere più adatto alla stagione estiva insomma poi passiamo con qualche articolo da uomo quindi tra gli altri tessuti che abbiamo abbiamo naturalmente anche il lino il lino anche questo può essere coltivato biologicamente e questa è una camicia in lino misto lino e cotone biologico con i classici modelli soprattutto da uomo abbiamo modelli molto essenziali infatti abbiamo la camicia col colletto o la camicia coreana che invece questo è fatto in tessuto di canapa che lo stesso è molto fresco traspirante e durevole nel tempo e a differenza del lino è anche comodo perché bisogna stirarlo un po' meno quindi poi andiamo sui tessuti un pochino più invernali del cotone abbiamo anche la felpa questa è una bella felpa molto soffice e pesante abbiamo nel nostro assortimento anche un sacco di articoli unisex per fare sport dalle felpe ai pantaloni alle t-shirt insomma a un prezzo molto calmerato controllato perché il nostro obiettivo negli anni è sempre stato di avere come pubblico le famiglie insomma perché diciamo che il prezzo leggermente più alto del convenzionale viene ripagato dalla grande durevolezza dei vestiti negli anni e dal benessere che si prova sulla pelle insomma poi andando avanti abbiamo sempre i tessuti invernali questo è una lana lana sempre mista a cotone biologico qui ritroviamo la canapa tessuta a maglia mista sempre al cotone biologico in un modello da donna e qui dopo abbiamo nuove fibre tipo questo è il Tencel che è derivato dall'eucalipto che è un tessuto ugualmente molto fresco molto bello soprattutto per l'estate allora Elena passiamo all'intimo e all'altra cosa ho visto anche le borse poi per le borse le donne però è bella questa borsa qui per il computer cos'è questo? quella è una borsa in misto canapa 55% e 45% cotone biologico anche di borse in canapa abbiamo diversi modelli dai borselle ai portafogli ai portamonete insomma le borse a spalla le borse a tracolla è un bel tessuto durevole nel tempo che rimane fresco e qui abbiamo l'intimo quindi diciamo che sull'intimo ci muoviamo su una doppia linea ecco abbiamo da una parte il tessuto in cotone biologico per esempio questo è un reggiseno in 100% cotone biologico dove anche i particolari come i gancini dietro sono rivestiti di cotone biologico quindi non c'è assolutamente nessuna parte sintetica a contatto con la pelle non ci sono neanche gli elastici sulle spalline ma anche le spalline sono in cotone biologico quindi diciamo che una parte della nostra clientela apprezza proprio questo prodotto proprio sbiancato naturale eccetera sia per come dicevo per i prodotti da donna sia per esempio per i prodotti da bambino diciamo che il bianco è il bianco naturale o non tinto è uno dei prodotti che che viene più richiesto di bambini proprio è l'unico invece per chi ama le cose colorate abbiamo naturalmente il body l'intimo o le tutine da bambino anche colorate e un po' lo stesso discorso lo facciamo anche per esempio per le calze che ne vendiamo veramente tante abbiamo i prodotti sia da bambino che da adulto in tessuti naturali non tinti senza elastane eccetera anche per esempio queste calze molto particolari che sono 100% canapa italiane tutte fatte in Italia molto apprezzate per l'inverno abbiamo finalmente le calze in 100% lana che sono praticamente introvabili altrimenti nei negozi convenzionali dove si trovano sempre una percentuale spesso del 40-50% di acrilico e poi invece per chi vuole le cose colorate per esempio ci sono le calze di bambù che ci sono di tutti i colori dell'arcobaleno e sono molto carine le cose che per esempio molte donne cercano di più sono i reggisseni naturali questo è un reggisseno che ha un pochino di elastane però permette di fare per esempio una coppa senza cuciture che è molto molto apprezzata insomma perché fa stare bene ecco questo per esempio è uno slip fatto in fibra di eucalipto ed è veramente uno slip invisibile ispirato agli slip in microfibra quelli invisibili insomma diciamo che abbiamo anche un'attrazione verso la modernità insomma verso la tecnologia e la ricerca di tessuti naturali si possono trovare anche prodotti che hanno un buon effetto insomma stilistico sul corpo ecco per esempio anche questo è un misto di bambù e fibra di amido sono canotte fatte con una maglia tubolare per cui per esempio non ci sono cuciture laterali rimangono molto aderenti al corpo e lo stesso sono dei prodotti estremamente traspiranti vanno bene in altri modelli fatti a vogatore anche per lo sport ecco e poi un'altra cosa che cercano molto dopo l'intimo sono i pigiami pigiami soprattutto da bambino da donna da uomo insomma e anche di questi proponiamo sempre il tessuto il classico bianco naturale oppure i tessuti colorati e soprattutto quelli invernali sono molti ricercati in spugna insomma più pesanti per evitare il classico pigiama sintetico di Paila insomma di Paila Per ampliare la nostra offerta al pubblico abbiamo negli ultimi due o tre anni aggiunto molti prodotti di cosmesi biologica. Naturalmente ci rivolgiamo principalmente alle aziende del settore italiane e certificate e più aggiungiamo alcune aziende che eventualmente non sono certificate ma che riforniscono per esempio gruppi d'acquisto solidale per cui hanno una filiera etica e controllata. Ecco, è molto richiesto il make up sia nelle sue formulazioni classiche che per esempio il nuovo make up minerale. Anche per i giocattoli abbiamo un assortimento che si rivolge soprattutto alla prima infanzia e quindi i giocattoli che abbiamo nel nostro assortimento partono dai classici pupazzini chiamati dodò, dudù eccetera in cotone biologico. Poi abbiamo un altro materiale che utilizziamo molto è il legno naturale, quindi vari sonagli e giochini per i bambini piccoli in legno naturale. Un altro materiale che viene utilizzato molto nei giochi naturali, per esempio il cauccio che viene dalla pianta dell'Evea Brasiliensis, è un prodotto totalmente naturale che può sostituire egregiamente le plastiche morbide, insomma. Quindi è fatto per tutti i giochini da bagno, le varie paperelle, giochi dentaruoli, giochi da manipolare. E poi c'è il mondo delle plastiche vegetali che sono finalmente delle alternative e sostenibili alla classica plastica derivata dal petrolio. Ci sono i noti giocattoli di Green Toys che vengono da plastica riciclata, oppure ci sono ormai anche giocattoli, e dopo parleremo anche delle stoviglie, per esempio, fatte in bioplastiche, no? Mater B, plastiche derivate da mais o anche dal bambù, ecco. Anche sull'ambito biberon, stoviglie, eccetera, per la prima infanzia ci siamo mossi su materiali che potessero garantire il massimo della sicurezza. E quindi abbiamo detto, per esempio, le plastiche vegetali, anche l'acciaio, per esempio, forniamo sia biberon che borracce, tazze bevimpara, anche fatte in acciaio, che a differenza dell'alluminio non è verniciato dentro con vernici epossidiche, insomma, che quindi poi col tempo si staccano e possono essere anche ingerite. Insomma, e quindi rimane un prodotto molto buono, molto naturale. E poi il vetro, il vetro è comunque un prodotto fantastico perché non ha odori, è molto sano, è probabilmente il più sicuro di tutti, no? Perfetto, quindi, per chi è in zona vi consiglio di venire, perché nel negozio vi perderete. Per chi non è in zona, entrate nel sito e troverete una miriade di prodotti veramente di qualità. Per chi non è in zona, entrate nel sito e troverete una miriade di qualità. Per chi non è in zona, entrate nel sito e troverete una miriade di qualità. Per chi non è in zona, entrate nel sito e troverete una miriade di qualità.